Costretti a giocare a Rocco, e questo è il senso delle parole del presidente della Triestina Ben Rosenweig nel comunicato con cui l'Unione ha ufficializzato come il big match con il Vicenza in programma venerdì 20 ottobre alle 20.45 verrà disputato allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Evidente che in una condizione normale tutti ne sarebbero ben felici, in primis la società stessa, se le condizioni del campo non mettessero a rischio l'incolumità dei giocatori. Sulla decisione di giocare nello stadio dedicato al Paron ha prevalso la linea della Lega Pro che ha rigettato al mittente la richiesta dell'Unione, formalizzata ieri sera, di disputare la partita a Fontana Fredda. I motivi d'ordine pubblico con tifoseria a rischio e Vicentini gemellati con l'Udinese, oltre che le esigenze televisive della Pay TV, hanno pesato evidentemente più di tutto il resto. Dopo aver sollecitato in maniera completa e tempestiva tutti gli enti governativi per disputare la gara in siti alternativi in grado di fornire una maggior stabilità del terreno di gioco, ha spiegato Rosenweig nella nota stampa, al club non è stata data altra scelta se non quella di giocare a Rocco. La Triestina continua a credere che il terreno del Nereo Rocco non sia ancora in condizioni sufficientemente idonee per ospitare competizioni di calcio a livello professionistico. Insomma, quel riferimento alla sicurezza non garantita, che rimane lo stesso del presidente di una decina di giorni fa. Vogliamo essere sicuri di poter giocare in sicurezza sia per noi che per gli avversari. Comunque monitoreremo ogni giorno per essere sicuri di avere un campo sicuro su cui giocare. La prevendita dei biglietti è già iniziata alle 17 di oggi. Per la tifoseria e la bardata saranno disponibili le sedi fisiche della sede societaria del centro di coordinamento Triestina Club e del Triestina Fan Club Bar Capriccio, oltre alla prevendita online. Quella dedicata agli ospiti sarà attiva da domani, sempre attraverso il circuito di vendita online, non appena arriverà il nulla osta dalle autorità competenti. È possibile, infatti, che vi possa essere una limitazione ai ticket ai soli residenti in provincia di Vicenza, ma su questo ancora non c'è chiarezza. Grazie a tutti.